Domenica alle 21 è scaduto il tempo per votare con un mi piace il vostro video preferito per la serie Sing For Me di febbraio. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, sia quelli che hanno cantato, sia quelli che con un mi piace hanno votato il loro video preferito. Il vincitore con più di 100 mi piace è A Drop In The Ocean, interpretato da Kira Alchemist. A breve le invierò per mail il suo premio, ossia il mio accompagnamento al pianoforte, e le ricordo che potrà utilizzarlo come meglio desidera. Noi ci rivediamo il primo martedì di marzo per riprendere questa rubrica, probabilmente con le stesse modalità. Invito tutti quelli a cui piace cantare a partecipare. Se non sapete cantare, invitate qualche vostro amico a farlo. Tutti abbiamo un amico che pubblica video su Facebook o su YouTube dove canta. Invitatelo a partecipare a questa rubrica, se è bravo verrà scelto tra i migliori 5. Grazie ancora per aver partecipato, noi ci vediamo all'inizio di marzo con il nuovo Sing For Me e durante la settimana, come sempre, con gli altri video. Ciao!